Eccoci amici, rossoneri ben ritrovati, vi ricordo come sempre di iscrivervi qui, mi raccomando attivate la campanella e lasciate un like. Prima di partire abbiamo un ospite, l'avete intravisto nella copertina ovviamente, vi ricordo, vi consiglio meglio di scaricare l'app di OneFootball, l'app numero uno per il calcio, per gli amanti di calcio come me, come voi, come noi tutti, si può anche personalizzare con esclusivamente notizie legate al Minan, e poi si possono seguire le partite, mercato eccetera eccetera, insomma tutto il calcio a 360 gradi, qui sotto c'è il link per scaricare gratuitamente l'app come ho fatto io. Allora ragazzi, ogni tanto è un po' come il Natale, quando arriva e arriva abbiamo qui per Camera Caffè Michael Cuomo, ciao Michael, arriva lento. Ragazzi ben ritrovato, non è vero che sono come il Natale? Vabbè effettivamente ti fai un po' desiderare ogni tanto, no? Sì però... Perché sei sempre preso, impegnato. Pensa che è la prima volta che sono su Milanello e che abbiamo visto Gordon Singer. L'hai visto tu ieri, sì, sì, sì. No, l'abbiamo visto tutti, con le immagini. No, pensavo che magari sei senza camicia, perché di solito hai un look un po' più... E sono anche, tra virgolette, in borghese. Perché è giovane. In borghese, sì. Però abbiamo tante notizie, tante discussioni forse chissà, diciamo subito che, caro Michael, intanto ieri qualcuno dal Milan aveva detto una cosa su Ibra, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Sì, arriviamoci. Intanto Messias domani lavora in gruppo, alleluia. Abbiamo... Ah, bella alleluia con Messias. Capita dopo. È arrivata così. Sì, ma... Abbiamo Florenzi che si opera. Florenzi si opera, quindi fuori un mesetto. Abbiamo Diaz che sta bene, l'abbiamo già detto, nei giorni scorsi. E... Baccaio e Grunic dopo la sosta però stanno migliorando. E chiaro è che domani dovrebbe tornare in gruppo, quindi domani ci dedicheremo un video. Intanto questa è una serie di antipasti, di appetitizer, come dicono quelli bravi, giovani e moderni. Che dire, Michael, cerchiamo di archiviare, metterci alle spalle la bellissima partita che tu hai visto anche dallo stadio con l'Atletico Madrid. Andate a vedere il video del pomeriggio, se non l'avete ancora visto, del post pranzo, della pausa pranzo, con delle novità interessanti a 360 gradi. E il discorso Ibra, perché ieri tu hai raccolto da qualcuno, del Milan, la possibilità di un Ibra, correggimi se sbaglio, in allenamento o ieri o comunque domani. E quindi convocabile e convocato per la gara con l'Atalanta. Ma è chiaro che si sta vivendo, secondo me, Andrea. Giriamoci intorno. Siamo di fronte a un bivio. Il bivio si chiama Svezia-Italia. Se Ibra va in Svezia, qua dobbiamo tutti avere una spiegazione e dobbiamo anche noi dare una spiegazione ai tifosi che ci seguono. Soprattutto tu. Soprattutto io, che di Ibra sono scudo e sono oltremodo il suo difensore. E scudiere. Però, ieri, quando abbiamo cercato di capire qualcosa in più sulle parole del CT e sulla sua convocazione, ci è stato detto, guardate che non è da escludere che lui possa addirittura far parte della spedizione di domenica a Bergamo. Questo è retroscena. Questo è retroscena. La premessa. A dire il vero, Andrea, così non sarà. Perché sappiamo per certo che Ibra a Bergamo non ci sarà. Oggi è arrivata, sostanzialmente, filtrata una notizia ufficiosa, ufficiale, chiamatela come le volete. Nella notizia... Cioè, Ibra sta meglio, ma non va a Bergamo. Ecco, non so tu, ma in questa notizia filtrata, dove si sottolinea che Ibra sta meglio, ma... Si riallaccia su quello che tu hai racconto. Si riallaccia, forse, a un fatto che in queste ore ci sono state delle valutazioni sul suo stato fisico. Allora dico, facciamo questo scenario e dimmi se è plausibile o meglio. Ti seguo. Si sono ritrovati dopo l'atletico. Caro Ibra, cosa facciamo? Tentiamo o per precauzione lasciam perdere, visto che c'è anche la sosta? Di comune accordo sono arrivati allo stato precauzionale. Quindi per precauzione, visto che c'è la sosta, saltiamo anche questa e recuperiamo al meglio. Se è precauzione per il Milan, deve essere precauzione per la nazionale. Io la versione la do un po' diversa. Ibra dice, dai, voglio rientrare con l'Atalanta e il Milan, staff tecnico, Pioli, staff medico, dice no, non rischiamo. E di comune accordo prevale questa decisione. Temo però, ci sta, temo che allora il tentativo di Ibra sia stato tale soltanto per poi giustificare la presenza nazionale. Perché poi è chiaro, Andrea, che nell'indiscrezione di ieri c'era anche la vicenda del... Ricapitoliamo. Indiscrezione dal Milan. Sì. Indiscrezione ufficiale. Raccolto ufficiale. Da persona che ha un ruolo nel Milan, comunque. Sì, certo. Che vive Milanello, ecco. Sì, sì, ieri poi Ibraimovic si è allenato in palestra. Sai, ieri era anche una seduta di scarico, perché il giorno dopo la partita sostanzialmente è poco indicativo. Diciamo che domani dovrebbe essere un po' la cartina torna sole. Però oggi Milan... Già oggi la cartina. Da Milan capiamo che... È già oggi, secondo me, la cartina torna sole. Infatti le notizie... Il bollettino medico arriva oggi e non ieri. Quindi se oggi è no, è no. È perché oggi poi è arrivato il risponso definitivo. Andrea, io sono curioso. Da quel che mi è arrivato non è certa la sua risposta. E qui arriva una bella indiscrezione ulteriore. No, dico che da quel che mi è arrivato non fonte società, anche perché ho visto la società ancora un po'... Su chi va là. La società, sai, poi i giocatori sul fronte nazionale si autogestiscono un po'. Lo sappiamo tutti, no? Ho sentito insigne dire il club non è contento, il mister non è contento, ma noi quando andiamo in nazionale stiamo bene e vogliamo andarci a tutti i costi, no? E in signa non c'è alcun caso, no? Stava parlando del suo impegno in nazionale, parlando poi prima della partita del Napoli. Quindi questo per dire che i giocatori si autogestiscono un po' sul tema nazionale. È chiaro però che in questo caso Ibra non può pensare di andare in nazionale con leggerezza dopo che col Milan hai fatto solo mezz'ora. Vedo che stai maturando anche sul tema Ibra, eh? No, no, poi è chiaro. Perché ogni tanto mi scontro con qualcuno. Allora. Su Ibra dico, no, è una cosa scandalosa, c'è sempre quello per cui Ibra è un dio sceso in terra, con la diva minuscola, e quindi qualsiasi cosa fa va bene. Però non mi dovete portare sul tema del 7 milioni a uno che non gioca. E poi sono 5 più bonus, quello non ti voglio portare. Una cosa dico, cosa può fare il Milan? Il Milan può non prendere provvedimenti come qualcuno ha auspicato, può dire, Zlatan, guardiamoci negli occhi, ti diamo anche quei soldi perché il tema economico non è secondario. Hai fatto 30 minuti su 900 o su 810 complessivamente perché saranno 9 le partite, quindi il 3% delle partite non è il caso che vai là. E se proprio vuoi andarla, vai là, fai la visita della mutua, saluti tutti, ci rivedremo e torni indietro. Sempre che lui non possa arrivare alla decisione di dire grazie, rivedercelo a Nazionale, cosa che sarebbe buona e giusta. Dall'altra parte Ibra, che è persona intelligente, deve fare un passo indietro. Come dice sempre, ascolta il mio fisico, ascolta il tuo fisico, fai un passo indietro, tra poco parliamo di che sia del mercato, e dici grazie, Nazionale, è stato bello, faremo una partita del Dio quando tutto sarà finito. Anche perché di Ibraimovic tutti abbiamo riconosciuto la soccorrenza, o meglio è uno che non dice cose semplici e banali. A volte calca un po' per il personaggio. Sì, però nel senso, quando dice determinate cose, lui crede davvero a quello che dice. Ha detto che lui non si sente Superman e che deve, tra virgolette, gestirsi. Ecco, andare in Nazionale dopo mezz'ora col club è un'incoerenza, mi pare evidente, e anche piuttosto grave nei confronti del contratto. Ricavando un po' le discrezioni. A proposito di incoerente, scusami, io ti ho lanciato però l'assist. Quale? Cavolo, l'incoerente che dichiara e che fa l'opposto. Adesso ci arrivo, infatti, volevo far mettere una chiusura su Ibra. non gioca con l'Atalanta e da quello che tu hai raccolto potrebbe alla fine non andare in Nazionale o al massimo andare e tornare subito. Sì, però Andrea dovrebbe. Però siamo all'ebbe, ebbe, ebbe. Eh certo. Sottolineiamo l'ebbe, ebbe, ebbe, perché davvero, ragazzi, quando parli di Ibra, sembra, non lo so io, andare a chiedere e a spulciare i documenti vaticano. Hai conoscenze, hai canali preferenziali, quindi quello che ci dici è molto interessante. Che sì. Che sì o che no? Che no. Al di là del gioco di parole. Così no. Così no, ma così è un male. Io ho sollevato il problema, ti devo dire, già da una decina di giorni. Perché dopo le prime due partite, intravedevo qualcosa. Adesso non è più un tema mio, è un tema di tutti. Non voglio essere stato pioniere, perché non abbiamo scoperto l'acqua calda. Però non va bene. Domenica con il piede da giochi. Ecco, ecco. Allora. Logica campo, Ben Nasser, che l'altra sera ha fatto una partita straordinaria, con Tonali, stagione straordinaria, e che si impanchina. Però ti faccio presente che Ben Nasser ha fatto 80 minuti di gioco e non ha ancora fatto due partite di fila. E va un po' gestito in questa prima parte, no? Dall'altra parte che sì, l'altra sera ha riposato. Ha giocato 29 minuti e poi si è seduto, si è seduto, pantofole. Guarda, questo Milan è cuore, gamba, anima, mentalità. Ho citato quattro elementi, nessuno di questi quattro oggi appartiene a che sì. Non ha gamba. Non ha voglia. Sembra non aver voglia. La questione gamba è figlia della testa, eh. Non ha mentalità perché oggi la sua mente evidentemente è occupata da altre tematiche. E ragazzi, questo Milan qui, che ci ha fatto entusiasmare nella prima mezz'ora contro l'Atletico Madrid, abbiamo provato delle emozioni che non sono neanche nuove, sono semplicemente vecchie, che abbiamo ritirato fuori dagli armadi. Insomma, è un Milan che oggi ha delle caratteristiche delle quali che sì, oggi non mostra nulla. Di gamba, di testa, di spirito, di voglia, di mentalità, niente. È un giocatore, oggi, che rappresenta la più classica e concreta delle delusioni. Fine. Non mi sento di aggiungere nulla. Io, credimi, non sto neanche al tuo... Lei è di corretta. Tu sei sempre razionale, calcolatore, sei lì che ti studi le statistiche, i minutaggi, e io in matematica mi faceva schifo e non sono bravo. Ma, è stato molto, molto male. Ma chi se ne frega delle due partite di fila, Ben Nasser, non sta meglio, sta molto meglio. E a Ben Nasser voglio fare anche un applauso, perché l'anno scorso era 50 milioni, sembrava lui il fenomeno di casa, poi ce ne siamo tutti dimenticati. Adesso anche Tonali, e quindi Ben Nasser, ancor più, non rientrava più nella testa e nei piani del tifoso. Ben Nasser viene buttato dentro, letteralmente, nella partita più importante di questo avvio di campionato e di stagione, perché vai in casa contro l'Atletico Madrid e ritorna in Champions League, sente suonare la musichetta, ha fatto un partitone, ha corso per otto giocatori, ha corso per lui, perché sì, e per gli attaccanti che non correvano, perché c'era Giroux che era praticamente immobile, ha fatto il centrocampista, l'attaccante, il difensore, il terzino, e ora vado a Bergamo e devo far giocare quello che mi ha lasciato in dieci, perché c'è i cavoli suoi per la testa. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Però dico anche che Ben Nasser, sai, da un punto di vista di infortuni ha dato molto, e quindi anche quest'anno è stato gestito con molta attenzione, anche perché poi, sì, c'è la pausa, ma lui comunque va in nazionale. A me è sembrato un giocatore estremamente vivo. Io ti dico che io la penso come te, però non escludo che il mister faccia questo ragionamento, Ben Nasser non lo devo rischiare, anche perché nella testa del mister, se se ne fa male un altro, apriti cielo, no, visto quello che sta accadendo. Che sì, ha fatto mezz'ora e gli do un'altra occasione, però io sono stra d'accordo con te e sono stra deluso da che sì. Dobbiamo dire, Andrea, che di che sì non parliamo soltanto in virtù del rosso, cioè che sì non è il giocatore in più che ti dava peso che il Milan aveva riconosciuto lo scorso anno. Posso dire così, posso dire così, il Tonali dell'anno scorso è che sì, che sì quest'anno è il Tonali dell'anno scorso, Tonali quest'anno è il che sì dell'anno scorso, magari non ancora con i livelli stratosferici, ma comunque molto importanti. E per fortuna abbiamo Tonali, e pensa cosa sarebbe questo Milan stratosferico con il che sì dell'anno scorso, vinceremo il campionato a marzo. Sai che io sono scaramantico, però voglio chiudere così, poi magari ai nostri amatissimi chiediamo anche di commentare sotto chi farebbero giocare domenica, di trasformarsi un po' in Stefano Pioli, ma quello che voglio dire è che Donnarumma l'anno scorso nella medesima situazione di Chessier, non parla e fai fatti sul campo. Cialanoglu non parla e fai fatti sul campo. Siccome io magari sarebbero Donnarumma che scalderà la panchina, magari scalderà ancora, e il tabaccaio turco che è scappato per 500.000 euro. Romagnoli non parla, è in campo e sta facendo grandissime cose. Ragazzi, ma lì è Florenzi, ma poi una palombella del genere. Arriva Renan Lodi che la mette dentro. Florenzi prima e poi Romagnoli dopo. E invece questo ha promesso, torno io, sistemo tutto, faccio io ragazzi. Ma mi fidatevi di me. Non solo parli e non mantieni, ma vai in campo. E fai schifo. No, oggi sento delle versioni, quasi come dire, è poverino alla vicenda contrattuale. Ha detto che la risolveva, che la risolva, così sta bene. Sicuramente il problema è legato al contratto. Qual è la comunicazione di mercato? Ma si è fidato uno nel casino. No, ti dico una cosa, gennaio alle porte. Sì. In attacco, come numero 9, siamo stati un po' sfortunati al momento. Ma io punto tutto su Girù. A centrocampo c'è il discorso che sì, c'è il trequartista che non è arrivato. Un nome, perché tu pratichi anche gli ambienti di mercato. Che cosa ci dobbiamo aspettare a gennaio? Ovviamente monitoriamo che cosa accade. Io dico, prima lo dici tu. Io dico che si può far arrivare ad lì in anticipo. Valuto Messias come vice Brahim Diaz per capire se posso avere un'alternativa a Brahim Diaz in casa. Se punto su Rebic come alternativa a Girù e Ibrahimović vuol dire che mi serve un vice Leao. Vice Pellegri. Vice Leao. Se Rebic e Leao vengono considerati due esterni di sinistra. Se Rebic io lo porto in avanti, perché Ibrahimović fa sempre meno, perché Girù è questo qui, perché Pellegri è questo qui. Quindi ti devi... Oggi fai giocare Pellegri al posto di Rebic, mai nella vita. Andiamo tutti in quella direzione. Adli prima. Adli prima. Valuto Messias e io dico, prendo un bel esterno che mi faccia anche gol. Sull'esterno secondo me Adli. Ti dico una cosa. Tonali, alternativa a Bakayoko. Ben Nasser, alternativa a Adli. Ben Nasser non ha alternative di qualità. Adli sarebbe l'alternativa. Il gioco delle coppie. Salemakers alternativa a Florenzi. Brahim Diaz alternativa a Messias. Messias. E poi andiamo su Febvre. Febvre non so se è un discorso ripraticabile. Lo so, il pregresso però è arrivato Messias e quindi si può andare a prendere. Ma anche per... Ne parleremo ragazzi. Lasciate un bel like qui, iscrivetevi qui. Andate a seguire Michael Cuomo su Instagram ragazzi. Andate anche a seguire Andrea Longoni QSWS. E poi spero che ci saranno presto novità. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie Michael. A voi. Grazie a tutti.